Ciao ragazze, allora questo video è per dirvi che per un po' di giorni non ci sarò perché parto per vicino Viterbo, per le feste di Pasqua, quindi vi auguro di passare delle buone feste e ci rivediamo al mio rientro e vi lascio con le immagini di alcune foto che mi hanno ispirato ai prossimi video che andrò a fare. Ciao! Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile di una relazione stabile che punti alle debilità.